I nostri cacciatori d'avventura si mettono ancora alla prova in luoghi inesplorati, spinti dall'amore per la natura selvaggia e dalla passione per le esperienze estreme. È stata una avventura stupenda, davvero meravigliosa, penso che la porterò nel mio cuore per sempre. Adventure Hunters, la nuova stagione, dal 3 maggio ogni lunedì alle 22 in esclusiva su CacciaTv. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it